Sivesta. Perché? Perché io ti amo. E voglio che tu sia felice. E adesso che cosa vuoi fare? Vuole uccidermi, Elisabetta. Risponda a questa domanda. Lei ama davvero Elisabetta e sarà capace di amarla per il resto della sua vita? Certo. Vada vicino a lei. Vai vicino, Elisabetta! Dille che saprei mantenerla onorevolmente e che la amerai per tutta la vita. Anche quando sarà malata. Anche quando diventerà brutta. Anche quando diventerà gonfia. Anche quando per quanto meravigliosa lei sia non sarà più capace di sorprenderti. Dille che nessuna sventura potrà mai dividervi. Dille che non toccherai mai più nessun'altra donna. Avanti, diglielo, diglielo, mai più! Dille che per gli altri ventimila giorni che verranno, tutte le mattine berrai una tazza di cioccolata calda a letto con lei. Con lei e solamente con lei, perché questo è quello che Elisabetta vuole. Non è vero, Elisabetta? Non è vero! Perché questo è il matrimonio, signor Casanova. O almeno il matrimonio che Elisabetta merita. Non bugie, recriminazioni, tradimenti. Quella è solo una vita che fa vergogna. Dunque se sei un uomo con il senso dell'onore e della dignità, promettile tutto questo. E io me ne andrò.